Come due anni fa, alla Vitrifrego Arena si spengono i riflettori dopo cinque giorni intensi di Final 8. Ad alzare la Coppa Italia per la seconda volta consecutiva è stata l'Olimpia Milano, che con un Melli in grande spolvero ha saputo domare la neopromossa Tortona imponendosi per 78 a 61. A fare da cornice a questa finale, che lo scorso anno aveva visto protagonista anche la VL, è stato il Palazzetto di Pesaro, che in seguito al nuovo decreto legge ha potuto accogliere così, proprio da domenica, il 60% di capienza massima. 5.000 appassionati di basket sono dunque accorsi per vedere l'ultimo atto di uno dei più grandi eventi cestistici in Italia, colorando di passione un'atmosfera già calda. Per il calcio è stato invece un weekend che ha lasciato la mare in bocca sia per la Vispesaro che per il Fano. Sconfitta Cesena per gli uomini di Mister Banchini, che dopo aver pareggiato nel primo tempo il momentaneo svantaggio, hanno visto poi i padroni di casa, terzi in classifica, segnare a sette minuti dalla fine e vincere per 2 a 1. Biancorossi che scenderanno di nuovo in campo mercoledì 23 febbraio allo stadio Benelli contro il Pescara. Nessun punto anche per l'Alma Juventus Fano, caduta al Mancini per 1 a 0 nella sfida contro Chieri. Oltre al danno anche la beffa, visto che nel finale è stato espulso l'Icaxiu, lasciando in 10 un Fano che si ritrova sempre più risucchiato nella parte bassa della classifica. Ha rallentato il suo cammino anche Little Service, che in queste prime quattro giornate del 2022 ha pareggiato per ben tre volte. Un punto anche sabato ottenuto per 2 a 2 contro il Matera, vedendosi attualmente distanti 4 punti dal Padova capolista. Biancorossi che voleranno in Sicilia per affrontare martedì alle ore 16 il Meta Catania e la partita verrà trasmessa in diretta su Rossini TV. Impresa compiuta invece dalla Megabox Vallefoglia che al Palla Carnaroli di Urbino ha schiacciato il Casal Maggiore per 3-7 a 0. La squadra di coach Buonafede, ora più 5 dalla zona retrocessione, grazie anche alle tre vittorie nelle ultime quattro partite, affronterà mercoledì, sempre in casa, le campionesse di Conegliano. La Fiorini Rugby Pesaro è scesa invece di nuovo in campo trovando una buona vittoria contro il Romagna, aggiudicandosi così il derby per 34 a 18.